Buonasera e ben ritrovati con le notizie di RTC Quartariete. Apriamo con i disagi provocati dal maltempo. La scorsa notte infatti si è abbattuto un forte temporale che ha causato ingenti danni, soprattutto nelle zone a nord di Salerno. I danni si registrano anche a Cava dei Tirreni. Ce ne parla Valentino Di Domenico. Le forti precipitazioni della scorsa notte hanno provocato danni e disagi in tutto il territorio salernitano e in particolar modo nella zona a nord del capoluogo. Anche la città di Cava dei Tirreni quindi è stata interessata in pieno da questa nuova forte ondata di maltempo. Le criticità maggiori si sono registrate soprattutto nelle zone collinari del versante orientale della Valle Metelliana. Si dalle prime ore del mattino i volontari della protezione civile, unitamente al personale dell'ufficio tecnico e della polizia locale, sono stati impegnati su tutto il territorio comunale per far fronte alle situazioni di crisi che si sono avvenute a creare nel corso della notte. Momenti di paura in via Bagnara, la località Citola, dove è crollato un muretto di contenimento a causa dello smottamento del terreno sovrastante. Per questo motivo il collegamento con Nocera Superiore è stato interrotto e numerose famiglie della zona sono rimaste isolate. Smottamenti si sono verificati anche a San Giuseppe Alpennino, a Santa Rosa e a Rione Santa Maria del Ruvo. Via Pasquale di Domenico, l'arteria provinciale che collega Santa Lucia a Sant'Anna, invece, come al solito, si è trasformato in un vero e proprio fiume di acqua e fango. Numerosi disagi anche nella popolosa frazione di Santa Lucia ed in particolar modo nella piazza Felice Baldi ed in via Flaminio Rispoli, dove la sede stradale era completamente allagata. Soltanto l'intervento dei volontari della protezione civile di alcuni cittadini del posto, che hanno ripulito la strada per far defluire il materiale fangoso, ha permesso il ritorno alla normalità della situazione. Mattinata di disagi anche al complesso Santa Maria del Rifugio, dove l'ingresso centrale si è allagato, rendendo difficoltoso l'accesso dei piccoli alunni della scuola elementare. Scenario disastroso anche nell'Agro Nocerino, con fiumi che si sono ingrossati oltre il normale, costringendo i sindaci a chiudere le scuole. Stesse problematiche anche ad Angri e a Mercato San Severino, con allagamenti nelle strade principali che hanno reso problematica la viabilità dei mezzi. Lezioni sospese anche all'Università di Salerno. Proprio a Salerno, nella città capoluogo, disagi soprattutto nella zona orientale, con alcuni sottopassi, caraci e cantine allagate. L'allerta meteo, dinamata dalla protezione civile, proseguirà fino alla mezzanotte del 30 ottobre. Colpite dal maltempo anche le zone periferiche di Nocera, inferiore. Anche per domani, venerdì 30 ottobre, il sindaco Manlio Torquato ha disposto la chiusura delle scuole in zona Cicalesi, San Mauro e Villanova. Vediamo i dettagli nel servizio di Luca Dennis Nota. Una delle località più colpite dal maltempo è Nocera Inferiore. Tra le 7 e le 8 di questa mattina, un intenso nubifraggio si è abbattuto sulla cittadina dell'Agro. Questo, insieme all'acqua proveniente da Monte, in particolare da Solofra, Montoro e Mercato San Severino, oltre che da Cava dei Tirreni, ha causato la tracimazione dell'alveo comune Nocerino che raccoglie le acque del torrente Cavaiola e del torrente Solofrana. Allagate le località Sant'Anna, San Mauro e Villanova, dove il fiume ha sfondato un argine, nonché la zona rurale di Cicalesi, dove ha anche sede una vasca di laminazione che si è riempita rapidamente. Durissimo il sindaco Maglio Torquato, che stamattina ha chiuso le scuole poco prima dell'apertura e poi si è recato sui luoghi di maggiore criticità. Quello che è accaduto stamane a Nocera su via Cicalesi non può restare senza colpevoli, ha dichiarato il primo cittadino. Abbiamo chiamato Mezzomondo e lo abbiamo fatto in tempo, siamo rimasti soli e da anni che così a ogni pioggia è rottura di argini. Io non posso e non voglio più accettare che il comune sia il capo espiatorio di quello che devono fare altri e non siamo più disposti a accettare lezioni da professori, regioni e altri disastri. Dal disastro al rilancio è il titolo del programma di rinnovamento del trasporto pubblico presentato in una conferenza stampa dal governatore della campagna Vincenzo De Luca. Vediamo il servizio. L'obiettivo è avere un servizio di trasporto pubblico efficiente. Con queste parole il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa analizza la situazione del trasporto pubblico locale definendolo un autentico disastro. La situazione attuale del trasporto pubblico in Campania è quella che voi conoscete. Siamo al disastro. Un solo dato dei 380 pullman che sarebbe necessario avere per un trasporto decente ne abbiamo disponibili solo 180. Siamo alla metà di quello che serve. La situazione debitoria di alcune aziende è pesantissima. Abbiamo una qualità dei mezzi che è a livello del terzo modo. Allora abbiamo avviato un programma di rilancio deciso del trasporto pubblico. Questo rilancio prevede l'acquisto di nuovi mezzi. Investiamo quasi 600 milioni di euro per acquistare 340 pullman nuovi e 34 treni nuovi fra servizio delle ferrovie dello Stato e servizi della circunvesumiera. È uno sforzo enorme che facciamo che ovviamente deve andare avanti insieme con il risanamento delle aziende. L'obiettivo è salvare il posto di lavoro di tutti i dipendenti e garantire ai cittadini un servizio efficiente. Felice Iagnello, presidente della nuova agenzia di sviluppo del territorio della Valle del Sarno, si dice fiducioso sul rilancio dell'ex Agroinvest. Puntiamo a far diventare l'agenzia il perno del rilancio del territorio, ha dichiarato Iagnello ai microfoni di Antonio Ioelle. Ascoltiamolo. Quando si ferma una realizzazione, come quando lei costruisce un palazzo, si arriva a metà, è chiaro che poi ci sono tutte le utenze, tutti gli allacciamenti che si fermano. Felice Iagnello, presidente della nuova agenzia di sviluppo del territorio della Valle del Sarno, l'ex Agroinvest, per intenderci, interviene e sgombra il campo da qualsiasi ulteriore perplessità. L'area PIP di Sarno, meglio la gestione elettrica, passa al comune di Sarno. In pratica si è venuta a ricomporre quella filiera istituzionale che potrebbe rendere il lavoro della neoagenzia molto più fluido. Per quanto invece riguarda il futuro dell'agenzia di sviluppo, queste le parole di Iagnello. La scommessa, per la verità, non è quella di lasciare Agroinvest a completare le cose che ha in corso, perché sarebbe una cosa abbastanza limitata. La scommessa va oltre ed è questo il motivo per il quale io ho aderito a partecipare a questo progetto, che è quella appunto di rilanciare sia in senso verticale ma soprattutto in senso orizzontale, cioè far diventare, cose che già abbiamo messo in moto, far diventare Agroinvest, che non si chiama più Agroinvest, si chiama infatti Agenzia per lo Sviluppo Territoriale della Valla del Sarno. Il titolo dice tutto. Puntiamo a far diventare l'ex società di sviluppo territoriale un'agenzia di animazione del territorio per non solo intercettare risorse, ma per proporre sia alle amministrazioni locali, ma soprattutto a tutti gli attori del territorio, quindi soprattutto le imprese, le piccole e medie imprese, gli artigiani, il mondo delle professioni e anche ovviamente i comuni, a trovare e a mettere in campo soluzioni che siano di ausilio e di sviluppo e di rilancio per tutte le nostre attività sul territorio. Domani pomeriggio alle ore 18 presso il Centro Sociale di Pagani il sindaco Salvatore Bottone incontrerà gli assegnatari ed i residenti degli alloggi IACP Futura di Via De Gasperi, Via Taurano e di Via Leonardi per informarli sull'esito dell'incontro che il primo cittadino ha avuto con la curatela fallimentare IACP Futura e le soluzioni proposte. Restiamo a Pagani, la crisi degli ultimi anni ha colpito duramente la città. Tante saracinesche chiuse lungo i punti nevralgici della città, nella migliore delle ipotesi si è assistito ad una migrazione dei commercianti nelle città vicine. Ora l'assessore al commercio del Cedro pensa a dei chioschi per rilanciare l'occupazione ma è un'idea che non piace a tutti. Vediamo il servizio di Danilo Sorrentino. Per rilanciare il commercio nella città di Pagani l'amministrazione sta pensando ad un'iniziativa che ha fatto storcere il naso alle opposizioni. L'ultima idea dell'assessore al ramo Francesca del Cedro è quella di far nascere 15 chioschi lungo le strade della città. Un'idea che a dire il vero non è nuova ma fu già partorita qualche anno fa dall'allora amministrazione Gambino. I chioschi potrebbero offrire qualche chance occupazionale in più, creare punti di aggregazione e riqualificare aree che rischiano di essere abbandonate. L'amministrazione Bottone sarebbe già pronta a pubblicare il bando per la realizzazione e l'assegnazione delle strutture. Individuate anche le aree che andrebbero ad abbracciare sia arterie cittadine che zone periferiche. I chioschi però sono stati già bocciati dalle opposizioni, in particolare da Angelo Grillo del Partito Democratico. Credo che da soli non servano. Pagani ha bisogno di altro. Pagani ha bisogno di un restyling generale, Pagani ha bisogno di una riorganizzazione, Pagani ha bisogno di rilanciare iniziative ed attività, Pagani ha bisogno di richiamare l'appello all'appello imprenditori, ha bisogno di chiamare all'appello intelligenza, ha bisogno intanto di capire quali sono i suoi problemi veri e di immaginare una prospettiva. Se si lavora lungo questo percorso si può anche arrivare da qualche parte. Diversamente si arretra e si arretra continuamente. Il programma elettorale e il programma amministrativo presentato in aula dal sindaco non reggevano rispetto alle questioni del Paese. Ora si tratta di riscriverlo con grande umiltà ma senza problemi. Non c'è una imputazione che io sto provando a fare. Sto provando a dare dei suggerimenti, sto provando a dare una traccia, sto provando a discuterla una traccia. Poi si faccia quello che si vuole. Al comune di Sarno sono state assegnate alcuni incarichi legali attraverso il contratto intuito persone, procedimento che consente di nominare direttamente un avvocato tramite rapporto fiduciario. Montoro consigliere di opposizione porta tutto in procura. Ce ne parla Rossella Liguori. Incarichi legali affidati secondo intuito persone, scintilla in seduta di consiglio comunale. Alcuni degli avvocati che difendono l'ente comunale in diversi contenziosi sono stati scelti seguendo un metodo diretto, tenendo quindi presente il rapporto fiduciario senza bando, senza gara, senza presentazione di curricula o di preventivi. In aula si sono surriscaldati gli animi su una interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Giovanni Montoro, espressione di rete libera. Durissime le accuse cui Montoro è intenzionato a dare seguito perché ha già chiesto che la stenotipia della pubblica assise sia inviata alla procura della Repubblica di Nocera Inferiore. A rispondere alle accuse è stato l'assessore al contenzioso Eutilia Viscardi che difende la scelta ed i risultati dei legali incaricati sottolineando che essendo un incarico fiduciario è lo stesso sindaco che firma il mandato, la nomina o la procura a scegliere il legale di cui voglia utilizzare le prestazioni. L'amministrazione Capfora ha incasellato diversi incarichi legali affidati senza nessuna gara, senza nessuna comparazione di curricula, cosa che non prevede il nostro regolamento, cioè hanno affidati incarichi diversi e decine di migliaia di euro ad avvocati, molto spesso avvocati vicini per l'area politica di questa amministrazione senza fare nessuna gara. Quando poi il regolamento approvato da questa stessa amministrazione dice che c'è bisogno della presentazione dei preventivi, chiesto che gli atti dell'interrogazione venissero inviati alla Procura della Repubblica perché siamo in palese violazione del regolamento e stiamo in una palese produzione di un danno all'ente e ci sono sicuramente delle ricadute da punto di vista penale e dalla parte della Corte dei Conti, presumo. Gli incarichi in tutte le persone sono un'eccezione del Comune di Sarno, normalmente gli incarichi vengono conferiti con procedura di gara quando il nostro avvocato non si può costituire, questo abbiamo previsto in questa delibera. In realtà la delibera prevede l'autorizzazione della Giunta a conferire l'incarico ma la Giunta in nessun modo poteva indicare il nome dell'incaricato. Secondo la presente segretaria Comunale dottoressa Cucca con una sua nota aveva indirizzato gli uffici in modo da ottenere il nome dell'incarico da parte del Sindaco. In realtà la dottoressa Cucca si basava sulla giurisprudenza attuale, l'ultima sentenza del TAR Campani 2015 che prevede che essendo un incarico fiduciario sia il Sindaco che firma il mandato, la nomina o la procura a scegliere il legale di cui voglia utilizzare le prestazioni. Passiamo ora a Cava dei Tirreni, tiene banco nell'ambito della politica metelliana il tema caldo dell'abusivismo edilizio spina nel fianco delle ultime amministrazioni comunali. La patata bollentore è passata nelle mani della Giunta a Servalli e nell'ultima seduta di Consiglio Comunale è stato presentato un ordine del giorno per la riperimetrazione delle aree soggette a vincoli paesaggistici. Vediamo. Sono circa 2.400 le case a rischio sgombero a Cava dei Tirreni di cui 5 imminenti perché edificate in zone rosse e ad elevato rischio idrogeologico tra le frazioni di Santi 40, Alessia Annunziata, Sant'Anna, Santa Lucia, Passiano, Contrapone e San Martino. Per la precedente amministrazione guidata dal sindaco Marco Galdi la soluzione del problema passava per la delibera 99 del dicembre 2014, oggi oggetto di accese polemiche sollevate soprattutto dal consigliere comunale Massimiliano Di Matteo. Noi ci siamo sempre opposti a quella delibera numero 99 del dicembre 2014 perché la vediamo finalizzata soltanto ad un periodo elettorale successivo e non dare una possibile risposta a quello che la legge regionale prevedeva ovvero la presa d'atto dell'articolo 1,65 e la predisposizione dei criteri di assegnazione per quanto riguarda gli immobili acquisiti dal patrimonio dei comuni. Nel nostro comune c'è stata una lettura totalmente errata dell'applicazione della legge regionale che ci ha visto ovviamente contrario al momento dell'applicazione e a spiegare i motivi anche in cammagna elettorale del perché non abbiamo portato avanti il discorso che l'amministrazione precedente aveva portato avanti e quindi abbiamo chiesto di rivedere questa situazione e di applicare il regolamento che poi alla fine dovrebbe essere anche oggetto della direttiva del sindaco Servalli. La giunta Servalli è invece più orientata verso una ridisegnazione delle aree soggette a vincoli paesaggistici proposta avanzata nel corso dell'assise dal consigliere Giovanni Del Vecchio. Sono vincoli ormai superati che ingessano, esasperano il nostro territorio, impediscono un rilancio di quello che è l'attività economica edilizia sul nostro territorio e vanno rivisti, vanno superati. Come? Attraverso la redazione di una bozza che sfrutta anche gli elaborati studi delle amministrazioni precedenti, perché su questo punto le amministrazioni precedenti avevano iniziato bene l'amministrazione Gravagnolo e quella Galdi, però poi non hanno portato risultati concreti perché la procedura si è arrestata. Quindi redigere una bozza di riperimetrazione, avviare una procedura di concertazione istituzionale con tutte le autorità proposte alla tutela dei vingoli. E sempre nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale Meteliano è stata istituita la consulta dei saperi, l'organismo consultivo composto da dieci personalità cittadine che per le proprie competenze intendono dare all'assessore un contributo di idee per il miglioramento dell'amministrazione. Vediamo il servizio di Matropiano. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa della città e assicurarsi uno strumento attraverso il cuore colmare quel gap di informazione che spesso si ritrova ad affrontare il Consigliere Comunale, l'assessore o anche un sindaco che per la prima volta viene investito da enormi responsabilità. Nasce con queste premesse la consulta dei saperi, l'organismo consultivo istituito nell'ultima seduta del Consiglio Comunale a Cava dei Tirreni. Ne abbiamo parlato con il Consigliere Comunale Eugenio Canora. Crediamo che il cittadino debba assumere un ruolo attivo nella gestione della cosa pubblica. L'idea era quella di costituire per ogni assessorato una specifica consulta, un gruppo di massimo dieci persone che sia un aiuto che vada a coadiuvare l'attività dello specifico ufficio comunale per singoli progetti o per una strategia di medio termine. Noi a Cava abbiamo decine, centinaia di professionalità che sarebbero disposte a mettere a disposizione gratuitamente la loro esperienza e il proprio trascorso culturale per portare avanti i progetti o anche semplicemente per dare una mano, un consiglio in determinate circostanze. Sarà lo stesso assessore a selezionare tra i candidati, le persone che sono più confacenti a questa figura. Sono certo che riceveremo molte proposte e molte candidature. Quale sarà quindi il ruolo di questa consulta? Allora esprimerà pareri non vincolanti, però effettivamente sarà un organo aggiuntivo di lavoro. Dietro a ogni azione amministrativa c'è tutto un lavoro, una ricerca del progresso storico, e anche di come andranno implementate determinate misure. È inevitabile che o un consigliere comunale o un assessore debba dedicare a questo progetto o a questi progetti molto tempo. Una squadra di esperti certamente può velocizzare la presa delle posizioni e soprattutto può essere un aiuto concreto anche in fase diciamo proattiva. Passiamo ora alla pagina sportiva. Contro i giovani del Gragnano, la Cavese ha avuto vita facile nel corso del primo turno della Coppa Italia. Il tecnico Longo però ha colto segnali importanti da quei calciatori meno impiegati in questa parte iniziale del torneo. In evidenza soprattutto l'attaccante classe 95 Giovanni Bongermino, autore di due gol. Tutti i dettagli nel servizio di Nunzio Siani. Il passaggio ai 32esimi di Coppa Italia si è rivelato una pura formalità per la Cavese che nonostante una formazione ricca di seconde linee ha affrontato un Gragnano giovanissimo dalla media età ben al di sotto dei 20 anni e per niente interessato alla manifestazione tricolore. Qualificazione dunque mai in discussione ma oltre al ponteggio rotondo, 6 a 1 il risultato finale, il tecnico Emilio Longo ha potuto apprezzare la prestazione di quei calciatori meno impiegati durante le prime 10 gare di campionato, a cominciare dall'ex bomber di Taranto e Grottaglie Giovanni Bongermino. Il classe 95 ha interpretato al meglio il ruolo di punta centrale, mostrando buone qualità tecniche e ottima prestanza fisica e segnando anche due gol di pregevole fattura. Un segnale chiaro, quello lanciato da Bongermino al tecnico Emilio Longo, oltre a Varriale e del Sorbo, per il ruolo di prima punta la Cavese può contare pure su di lui, concetto sottolineato a fine partita in sala stampa. Sicuramente ho tanta voglia di dimostrarmi anche perché sono in una piazza importantissima, poi le persone che ho davanti, tra virgolette i miei colleghi, sono anche molto forti e vengono anche da realtà di Lega Pro e queste cose qua. Io essendo alla fine ragazzino devo fare così, quando mi chiamano in causa devo dimostrare che ci sto. Credo che la squadra abbia fatto oggi il proprio dovere e c'è qualcuno secondo me che seriamente deve essere preso in considerazione anche rispetto alla squadra tipo della domenica. Bongermino è un ragazzo che sta capendo che lui può essere il futuro della Cavese, secondo il mio punto di vista. In un certo modo all'inizio non l'ha capito benissimo, non ha capito che quest'anno c'è bisogno di lottare subito e quindi non c'è la possibilità di aspettare tanto, però io quando ho parlato con lui sono stato sempre molto chiaro dicendo che davanti c'aveva due calciatori importantissimi, ma veramente quando gli ho fatto l'affermazione che lui potrebbe essere un 95 di prospettiva e quindi anche un calciatore di prospettiva in Lega Pro lo sentivo, gliel'ho ripetuto e se queste sono le prestazioni di Giovanni e di Bongermino potrà essere tranquillamente uno che se la giocherà anche con Barriale e con Del Sol. E chiudiamo con una notizia. Sabato 31 ottobre è prevista la parziale sospensione delle corse della Metropolitana di Salerno per motivi di ordine pubblico. In occasione dell'incontro di calcio salernitana Perugia in programma alle ore 15 allo stadio Arechi, il servizio sulla linea metropolitana di Salerno sarà sospeso tra le 12 e le 18. Questa era la nostra ultima notizia, la redazione di RTC Quartarete e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti i nostri amici.